La Pasqua si sta avvicinando e perché non preparare un lievitato tipico di Pasqua? Oggi prepareremo insieme il tortano. Il tortano è un lievitato che si prepara durante il periodo di Pasqua. Al suo interno troviamo salumi e formaggi misti che è un po' una sorta di svuota frigo. Tutto ciò che abbiamo in frigorifero possiamo utilizzarlo al suo interno. All'interno ci sono anche le uova sode e la differenza sostanziale col casatielo è proprio questa. Qua ci sono le uova all'interno e invece al casatielo ci sono messe 4 uova crude sopra. Vediamo come preparare questo tortano. Nella farina mettiamo il lievito fresco e lo spezzettiamo. Se volete usare il lievito secco lo potete usare tranquillamente e divanzate la dose. Dopo aver messo il lievito versiamo tutta l'acqua ed iniziamo ad impastare aiutandoci con un mestolo. raggiunto a questa consistenza, quindi formato un po' l'impasto, mettiamo da parte il mestolo, buttiamo il sale nell'impasto e lo impastiamo con le mani. Impastiamo sempre con lo stesso metodo ruotando la ciotola e chiudendo l'impasto. Assorbito anche il sale, a questo punto come regola ci andrebbe lo strutto o il grasso o comunque burro. Io come grasso metto l'olio, ne metto un po' più del solito. E li impastiamo. Quando l'olio è assorbito e inizia ad essere un pochettino colloso l'impasto, ci fermiamo e lo facciamo riposare circa 10-15 minuti in modo da far assorbire bene l'acqua alla farina e facciamo incordare bene l'impasto. Dopo 10 minuti di pausa l'impasto come vedete è ben rilassato ma non impastato. Ci bagniamo un pochettino le mani con dell'acqua e lo passiamo sul piano da lavoro. Gli facciamo delle pieghe in questo modo. Come vedete già è quasi pronto. Lo tiriamo in modo da dargli forza. Arrivato a questo punto, lo rimettiamo nella ciotola e facciamo fare un'altra pausa di 10 minuti così gli diamo una bella forza. Siamo alla seconda pausa di circa 10 minuti e facciamo la stessa cosa della prima pausa. Spostiamo l'impasto sul piano da lavoro sul banco e gli diamo delle pieghe in questo modo. Ne bastano giuste poche. Dopodiché lo tiriamo in questo modo e l'impasto è pronto. Vedete è bello liscio. Lo spostiamo di nuovo nel contenitore. Lo copriamo e lo facciamo lievitare. Circa due ore e mezza tre. Allora il nostro impasto è raddoppiato. Ci sono avute circa tre ore per raddoppiare di volume. Adesso andiamo a formare la pallina e ne formiamo solo una dato che la ricetta è una dose quindi per un solo torte. Nel caso in cui voleste fare due o più torte naturalmente fate due o tre palline. Scarichiamo l'impasto sul piano da lavoro. Volutamente ho preso un contenitore più piccolo e stretto in modo da sostenere con le pareti e l'impasto farò crescere un po' in altezza e di conseguenza prende più forza. Formiamo adesso la pallina. Ok, l'impasto è pronto. La spostiamo nel contenitore. La facciamo lievitare a temperatura ambiente e deve raddoppiare di volume. Rieccoci qua con l'impasto ben lievitato. Oltre all'impasto ci siamo preparati, i salumi misti e i formaggi, un po' di parmigiano e pecorino, tre uova sode, l'olio d'oliva e pepe nero. Partiamo con la stesura. Vi liberate per bene il piano da lavoro e ce lo invariniamo un pochettino. Lo ribaltiamo sul piano da lavoro. Quindi, spostato l'impasto sul piano da lavoro, ce lo invariniamo un pochettino di sopra. Adesso, volendo, si può già stendere e farcire. Nel mio caso, però, lo voglio fare al modo come lo faceva mia nonna qui a Cosenza. Lo divido in due e faccio due cordoni e le indreccio. Però volendo si può fare anche single. Tagliamo l'impasto in due oppure ci prepariamo già prima le due palline, come preferite. Come vedete l'impasto è ben lievitato perché non voglio usare il mattarello per stendere, ma voglio stendere a mano. Non usate il mattarello. Fatelo lievitare bene, così si stenderà per bene. Se vi preparate le palline prima, sarà un po' più facile dare la forma rettangolare precisa. E purtroppo, per questione di spazio, uno l'ho già fatto. Adesso ne facciamo un altro insieme. usate un po' di farina sia sotto sia sull'impasto. Regolate più o meno in base alla grandezza dello stampo. Più o meno vi potete regolare in questo modo. Prendete un punto preciso sullo stampo. Lo fate ruotare. Ecco qua. Ne manca giusto un pezzettino così. Iniziamo a condire. Partiamo dall'olio. Olio extravergine d'oliva. E i salumi misti. Di questi qua usate quello che avete in frigo. Perché questa è una ricetta svuota frigo. Ci aiuta a consumare un po' di roba che abbiamo nel frigorifero. Essendo calabrese non può mancare la soppressata. E il caciocavallo silano. Insieme poi ad altri salumi e formaggi che ho aggiunto. Messe i salumi e i formaggi. Tagliate a cubettini non troppo grandi. Facciamo una bella spolverata di parmigiano e fecorino. Le uova sode. Le schiaccio a mano. Le potete tagliare a cubetti o come preferite. Per ultimo facciamo una bella passata di pepe. E la rotoliamo. Cerchiamo di fare subito. Non lasciamo l'impasto troppo fermo sul tavolo, sul piano da lavoro. Perché si rilassa troppo. Poi facciamo fatica a metterlo nello stab. Avviciniamo i due filoncini e li pizzichiamo sopra. E li indrecciamo. Se si apre pezzichiamo. Ok. E lo chiudiamo un pochettino pure alla fine. Prendiamo lo stampo. Se è antiaderente nemmeno ci sarebbe bisogno di olearlo oppure di mettere burro. Ma è una passata la faccia. Qua viene la parte un pochettino più difficile. Se c'è qualcuno che vi può aiutare è meglio. altrimenti vi avvicinate allo stampo. E fate così. Unite bene le due estremità. Altrimenti ci vengono poi degli spazi vuoti. E facciamo una bella passata d'olio sopra. Ok. Adesso tutto il lavoro è fatto. Basta solo farlo lievitare e poi impornarlo. Ed ecco il tortano ben lievitato dopo un'oretta circa in forno. Adesso facciamo un'altra passatina leggera di olio oppure anche con del tuorlo possiamo spennellare. E poi andiamo in forno. Lo cuociamo in forno preriscaldato a 175 gradi per circa 50 minuti un'ora. Se dopo 20 minuti, mezz'oretta, vi rendete conto che la cottura sopra sta andando un pochettino oltre, vi preparate una griglietta con della carta d'alluminio da mettere sopra in modo da proteggere il tortano dalla resistenza sopra. Abbiamo sfornato da poco il tortano. L'abbiamo fatto raffreddare un pochettino, tolto dallo stambo e questo è il risultato. Adesso lo tagliamo e lo assaggiamo. Vediamo com'è venuto. E' morbidissimo. E' ottimo. E c'è un profumo che bisogna solo provarlo. Vedete il suo interno è sofficissimo, la struttura è ottima. Devo fare urgentemente una fettina e assaggiarla. Nel frattempo la fettina l'ho finita, me l'ho dimenticato di dirvi un'altra cosa. Come potete notare si vedono benissimo le righe perché in questo caso l'abbiamo fatto con due filoni e indrecciati tra di loro. Quando si fa un filone solo e viene girato, torto in questo modo, poi dopo la cottura quell'effetto non si vede più. Vi consiglio assolutamente di provarlo perché è veramente buono. Inoltre è una ricetta molto semplice e veloce. Non ha bisogno di tempi lunghi di maturazione e di lievitazione. Quindi se preparate la ricetta fatemelo sapere nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto. Non vi dimenticate di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Attivate anche la campanellina in modo da restare aggiornati per i prossimi video. Alla prossima. Enjoy! Ciao!